Ho ancora la locandina esposta a no ZTL ma se è un regolamento che deve essere tolta la toglierò, magari lo esporrò all'interno del mio negozio che è privato e vedremo cosa succede. Sono d'accordissimo con la protesta che è stata fatta dai commercianti per il prolungamento della ZTL ma non ho esposto in vetrina quello che è stato esposto da quasi tutti i commercianti perché mi sono immaginata che ci sarebbe potuto essere una multa da parte del comune. Cautela e prevenzione tra i commercianti del centro dopo il provvedimento preso dal comune di Torino sui manifesti no ZTL affissi nelle vetrine dei negozi che potrebbero allargarsi anche alla cosiddetta ecotassa. Ad alzare la voce sul divieto di affissione il capogruppo dei moderati in comune Silvio Magliano che parla di censura e chiede comunicazioni urgenti in sala rossa. Vorrei sapere chi ha dato l'ordine di rimuovere dai negozi cartelli no ZTL sbottamagliano che un anno fa è stato multato per aver collocato un appendino in piazza della Repubblica con l'intento di sensibilizzare l'aggiunta sul diritto alla mobilità dei disabili. Il consigliere comunale si domanda come mai la stessa intransigenza non viene applicata in altri casi come ad esempio le affissioni abusive e le locandine dei comitati improvvisati riferendosi anche ai manifesti no TAB. Questa vicenda chi lo sa, secondo me adesso ci sono altre firme da raccogliere, le raccoglieremo e andremo avanti con questa nostra battaglia, vediamo cosa succede.